Ciao a tutti, alla fiera dell'elettronica di consumo di Las Vegas Autel Robotics ha appena presentato l'Evo Max 4T. Vediamo assieme di cosa si tratta, benvenuti in un nuovo video di Quaricottero News. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Evo Max 4T è il nuovo drone Enterprise di Autel Robotics, quindi un drone destinato alle applicazioni professionali. Se si guarda frontalmente ad una certa distanza, l'inclinazione dei bracci e i bracci sottili lo fanno somigliare molto al Mavic 3 Enterprise, in particolare alla versione Thermal Mavic 3T. E la T finale di Evo Max 4T appunto sta proprio a significare che è dotato anche di una camera termica, che viene ospitata sul gimbal stabilizzato su tre assi beccanicamente, assieme ad altri tre sensori che vedremo tra poco. Lo slogan di Autel Robotics per questo drone è raggiungi nuove frontiere. E tra le caratteristiche principali viene evidenziato il fatto che l'intelligenza artificiale unita alla grande varietà di sensori permette di non avere punti ciechi per quanto riguarda il rilevamento degli ostacoli. Grande varietà di sensori che gli permettono anche di volare in modo autonomo, navigare in modo autonomo anche quando non riceve i segnali GPS, ad altezze superiori ai soliti 10-15 metri a cui siamo abituati con i droni che hanno il normale sistema VPS. In più ha il grado di protezione IP43 che lo protegge dagli schizzi d'acqua e quindi anche da pioggia leggera. Gli algoritmi di calcolo uniti all'intelligenza artificiale e al payload delle camere, inclusa la camera termica, gli permettono di identificare con precisione varie tipologie di soggetti e anche di tracciarli, di inseguirli in volo. Una novità assoluta per questa classe di droni è quella che l'Evo Max 4T è equipaggiato anche di un radar a microonde che è abbinato ai sensori ottici per il rilevamento ostacoli, come abbiamo visto prima, gli permette di non avere punti ciechi, cioè di rilevare qualsiasi ostacolo, anche in condizioni di scarsa luminosità o di pioggia. È stato progettato anche per avere un'alta reiezione ai disturbi e alle interferenze anche per quanto riguarda il GPS, come abbiamo detto funziona anche quando non c'è il GPS ricevibile. Questa caratteristica gli permette anche di essere impiegato in ambienti critici dal punto di vista di emissioni radio, con grandi interferenze in vicinanza di linee elettriche e via dicendo. Autonomia di volo dichiarata di 42 minuti, con una resistenza al vento che può raggiungere i 43 km all'ora. Dal punto di vista aerodinamico e del sostentamento nell'area rarefatta, può volare fino a 7000 metri di altitudine. Per quanto riguarda il segnale radio, viene dato per 20 km di range in America, modalità FCC, e per 8 km in CE mode. Come abbiamo visto nel video introduttivo, può far parte di una flotta di droni e collaborare attivamente. In questo modo può essere ampliata anche la comunicazione, perché ogni drone funziona da ripetitore nei confronti della flotta di droni. Quindi altri Evo Max 4T possono rilanciare il segnale radio dell'Evo Max 4T che stiamo usando, magari in vivo loss, ampliando le possibilità operative. Protocollo radio Skylink 3.0, 6 antenne, segnale radio criptato e possibilità anche di inserire moduli 4G, ovviamente dove la normativa lo premette, così come lo sfruttamento delle quattro bande di cui è dotato. Sappiamo che ad esempio la 900 MHz in Europa non è concessa. La latenza, ovvero il ritardo delle immagini ricevute, è di 150 millisecondi, quindi in linea con i migliori droni della concorrenza. Molto interessante il gimbal camera, perché ha quattro sensori, una camera termica da 640 pixel, quindi è una termocamera che abbiamo già negli altri Evo, come ad esempio l'Evo 2 T640. Poi c'è una camera da 48 megapixel, mezzo pollice, con zoom ottico 10x e zoom ibrido fino a 160x. Zoom ibrido che ovviamente a 160x è elettronico, ma Outel dice che riesce a rilevare dettagli fino a circa 2 km di distanza. Poi c'è la camera sul visibile principale che ha un FOV di 85 gradi e un 50 megapixel con un sensore da 0,78 pollici. Infine c'è un sensore laser in grado di misurare distanze fino a 1,2 km. Con il laser range finder è possibile individuare un soggetto, tapparlo sullo schermo e capire a che distanza e altezza si trova con anche le coordinate. Il tutto funziona con l'app in versione Enterprise, con cui è possibile programmare missioni fotogrammetriche di mappatura 3D e con i prossimi aggiornamenti arriveranno anche le possibilità di replicare una missione di un volo condotto manualmente segnando punto per punto i vari white point e la quick mission. Poi è possibile naturalmente programmare una tipica missione a white point, una missione con area di volo rettangolare e in futuro sarà possibile anche generare missioni automaticamente con anche la possibilità di importare file KML per missioni programmati con altri software. Arriverà anche il terrain follow-up, cioè la possibilità del drone di seguire automaticamente la pendenza del terreno mantenendo sempre a stessa altezza e questo è molto utile per ottenere un GSD costante in fotogrammetria poi missioni con fotografie oblique e missioni a spirale che potrebbe risultare utile nelle missioni di ricerca e soccorso. È già disponibile la funzionalità di generare automaticamente aree poligonali mentre con aggiornamenti futuri verrà data la possibilità di eseguire il rilevamento delle facciate per le scansioni verticali così come i corridoi di mappatura utili per i rilevamenti delle infrastrutture lineari quindi elettrodotti, oleodotti, strade e via dicendo. Come ho detto in precedenza c'è il segnale radio criptato e grande attenzione alla privacy dei dati. Poi sempre con aggiornamento futuro e speriamo che poi effettivamente questi aggiornamenti vengono rilasciati in tempi brevi sarà possibile suddividere lo schermo dello smart controller in tre parti in modo da visualizzare l'immagine termica, l'immagine sul visibile e altre configurazioni c'è anche un ricevitore a dsb che segnala la presenza di aeromobile con equipaggio che stanno trasmettendo il proprio segnale a dsb nelle vicinanze. È subito disponibile il mobile sdk per sviluppare app terze parti mentre il pilot sdk e il cloud sdk passeranno rilasciati in seguito. Tra gli accessori lo smart controller v3 con un display da quasi 8 pollici 7,9 e 2000 nit di luminosità. Poi il live deck 2 che conosciamo e che permette di rilanciare il segnale del drone facendo dirette in broadcasting visualizzando anche su monitor esterni, rilanciandolo su wifi dando quindi molte possibilità di ritrasmissione del segnale molto utile per le dirette e poi il modulo rtk da installare sul drone. Insomma sulla carta un drone notevole dalle possibilità notevoli molto utile nelle ispezioni nella ricerca e soccorso per la pubblica sicurezza per la mappatura per l'antincendio e per molte altre applicazioni. Purtroppo però in europa abbiamo la spada di Damocle del 2024 quando entreranno a regime le open category piene quindi la marcatura di classe dei droni sia per le open category sia per gli scenari standard europei che saranno attivabili dal 2026 e che richiederanno droni con marcatura C5 e C6 quindi questo drone pesando 1,6 kg potrà essere utilizzato fino al 2024 in categoria assimilabile alla C2. dal 2024 in poi dal 1 gennaio 2024 purtroppo finirà in scenario A3 perché non ha la marcatura di classe quindi finirà o in A3 open category oppure scenari standard italiani e non europei. In ogni caso sarà sempre possibile utilizzarlo negli scenari PDRA a rischio predeterminato che sono quegli scenari che richiedono l'autorizzazione da parte di ENAC non sono come gli scenari standard. I scenari standard noi dichiariamo e operiamo. Con i PDRA noi dobbiamo richiedere l'autorizzazione ad ENAC prima di operare. In più c'è sempre la possibilità di redigere un'analisi dei rischi SORA e impiegarlo nelle operazioni specifiche sempre dietro autorizzazione ENAC diciamo che se questo drone avesse la marcatura C2 oppure la C5 o la C6 le cose sarebbero molto più semplici. Nel frattempo abbiamo visto le caratteristiche tecniche mi voglio soffermare su questa novità chiamiamola così non è proprio una novità assoluta però su questa classe di drone è sicuramente una novità e cioè la capacità di mantenere la posizione e di navigare anche senza ricevere segnali gps con un'altezza fino a 500 metri rispetto terra 500 metri di altezza rispetto al suolo che di notte diventano 100 metri ma più che sufficiente per operare anche senza segnali gps sia di giorno che di notte e anche senza segnali gps c'è la capacità del ritorno a casa automatico sempre ad un massimo di 500 metri di altezza rispetto al suolo ma noi sappiamo che in europa l'altezza massima consentita per open category è 120 metri per le specifiche può essere aumentata ma sempre dietro autorizzazione è una capacità che ritengo molto interessante i prezzi non sono ancora stati ufficializzati si parla comunque di una cifra che uscilla tra i 7 mila e i 10 mila dollari staremo a vedere sicuramente è un concorrente del mavic 3 enterprise t che però offre soluzioni aggiuntive alcune delle quali innovative come abbiamo visto bene direi che il video può terminare qua vi ringrazio per l'attenzione fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti su questo drone e noi ci vediamo con il prossimo video su quadricottero news non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto ciao a tutti e buona continuazione